Caravaggio tradito perché la critica d'arte ha veramente tradito Caravaggio. Guttuso ha scritto, si direbbe che i biografi non sappiano raccontare la vicenda del Caravaggio che attraverso il rifiuto delle sue opere. L'11, il 17 e il 24 maggio saremo a San Luigi dei Francesi, a Santa Maria della Scala, a Santa Maria del Popolo, con alcuni fra i più illustri studiosi di Caravaggio moderni. A San Luigi dei Francesi il taglio di luce che illumina il viso di Matteo è già nell'affresco del Cavaliere d'Arpino. Dov'è questo affresco? Chi lo ha mai visto? È lontano, è vicino? A Santa Maria della Scala non c'è più l'opera del Caravaggio, eppure era presente. Cosa è successo di quell'opera? A Santa Maria del Popolo la tela che rappresenta la crocifissione di Pietro mostra uno sguardo peculiare di Pietro. Cosa sta guardando Pietro? A queste e a tante altre domande cercheremo di darvi risposta.